Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi della mia esperienza dopo un mese e mezzo di utilizzo circa della Vodafone FWA, quindi connessione internet attraverso la rete dati e rete cellulari. Allora, io ho optato per l'opzione Vodafone per il semplice fatto che vicino alla mia abitazione c'è una BTS della Vodafone dotata di 5G, quindi ho voluto provare questa soluzione per avere più velocità. Io ho scelto l'opzione quella outdoor perché esiste anche l'opzione indoor dove in pratica vi forniscono una sim Vodafone e un router da mettere all'interno dove voi volete all'interno dell'abitazione, però ha diciamo una copertura minore rispetto a installare all'esterno dell'abitazione su un palo, sul muro, sulla ringhiera del vostro appartamento, villetta, insomma dove abitate, di un'antenna esterna. L'antenna esterna che garantisce ovviamente in 5G garantisce una miglior ricezione. Poi in base al vostro tipo di BTS verrà installata una di queste due antenne. Se ovviamente voi avete copertura 5G e questo lo potete verificare sul sito Vodafone attraverso il servizio clienti o se volete sul sito LTE Italy potete verificare se dove abitate avete una BTS con connessione 5G. Scegliendo questa opzione 5G o 4G comunque il tecnico verrà a installarvi una di queste due antenne esterne ovviamente nella migliore posizione possibile all'esterno e attraverso un cavo di rete LAN che poi vedremo, quindi un cavo che trasmette sia la tensione necessaria ad alimentare l'antenna sia a far passare appunto il segnale dati, quindi una POI Power of Ethernet, dall'antenna con un cavo LAN unico si andrà dentro casa nella Vodafone Station classica e quindi poi da lì si otterrà la connessione internet. Quindi adesso vediamo in breve come è costituita e poi faremo gli speed test per verificare se è una soluzione ideale oppure no. Ecco la antenna FWA da esterno, antenna collegata con un cavo LAN Power of Ethernet, quindi funziona attraverso un cavo di rete che fornisce l'alimentazione dal trasformatore che sarà installato in casa. All'interno di questa antenna 5G, 4G viene messa la sim all'interno qui, quindi questo sportellino, viene inserita la sim che vi spediscono e ovviamente il tecnico controllerà l'orientamento dell'antenna che nel mio caso là in fondo c'è la BTS della Vodafone. Quindi diciamo di andare a qui saremo all'incirca 800-900 metri. antenna montata, in questo caso sul palo, io avevo la fortuna di avere già in tempi arretrati Eolo, la quale Eolo anche lei utilizzava un cavo LAN di rete quindi il tecnico ha trovato già il cavo di rete bello che pronto e quindi l'ha solo dovuto collegare. Nel caso chiaramente non ci fosse sarà lui che vi farà passare il cavo nelle canaline esistenti e poi fisserà l'antenna o al balcone o al muro o come nel mio caso a un palo esistente, ad esempio quello dell'antenna. Lì è poi il tecnico che farà le sue opportune verifiche. Ecco, questo appunto è il trasformatore il quale va a fornire corrente attraverso il cavo di rete, quindi questo cavo blu, il cavo che abbiamo visto prima sopra che andava all'interno dell'antenna esterna, quindi fornisce alimentazione all'antenna e ovviamente prende anche la connessione internet la quale poi verrà distribuita attraverso quest'altra porta LAN che c'è qui di fianco e questo cavo poi andrà a finire all'interno della Vodafone Station. Quindi tutto molto semplice, un unico trasformatore per fare sia alimentazione sia appunto trasferimento dei dati. Adesso andiamo a vedere la Vodafone Station. Eccoci sul retro della Vodafone Station, questo cavo è quello che proviene dal trasformatore che abbiamo visto prima, che entra dentro la porta WAN e poi chiaramente ci sono le altre quattro porte, sempre LAN, che possono portare il segnale ai vostri dispositivi. Adesso andremo a fare degli speed test per vedere come va la connessione. Allora facciamo un bello speed test. Ping 15 millisecondi, download abbondantemente sopra i 300 MB. Ottimo. Vediamo l'upload. Direi eccellente. Siamo sopra i 50 MB di media. Sì. Eh direi ottimi valori. Test fatto alle ore 16. Quindi adesso lo ripeto. ripeterò tra un paio di ore stasera, giusto per capire un attimino e farvi vedere che bene o male le velocità sono quelle. Ovviamente parliamo sempre di una FWA, quindi la connessione, la velocità di connessione non è sempre costante come una fibra, una FTTH ovviamente, però è una buonissima alternativa appunto alle connessioni cablate. Quindi dove una persona non ha copertura può optare per questa soluzione. Altro speed test. Ore 18. Via. partito a cannone. Ping bene o male come quello di prima. Download sempre oltre 300 che va più che bene. e upload. Siamo sempre sopra i 50. Eh direi niente male. Niente niente male. E qui comunque io ho la copertura 5G piena perché appunto la BTS è dotata di 5G da circa un paio di anni, quindi comunque sia è abbastanza collaudata. Sono le 21. Eh direi sempre velocità ottime. Ping più che accettabile, utilizzabile anche per giocare online senza grossi problemi. Ricordiamo che parliamo sempre di una connessione FWA, quindi comunque non una connessione cablata. Però secondo me è un'ottima soluzione. L'unica cosa che però voglio dire non crea grossi problemi. Io la sto testando da un mese e mezzo circa. Non ho mai avuto problemi. Tra l'altro si può chiedere anche l'IP pubblico. Se doveste avere video sorveglianza o avere necessità appunto di non avere un IP pubblico. È gratuito quindi basta chiamare servizio clienti Vodafone e ve lo attivano nel giro di 24 ore. L'unico limite che c'è che sono 1000 giga mensili però uno può pensare e sono pochi. Sì ovvio chiaro dipende sempre quello che uno fa perché se di lavoro faccio lo streamer piuttosto che ho un canale youtube e che carico 10 video al giorno mi potrebbero star stretti. Però per un uso normale quindi 90% di tutti noi 1000 giga al mese sono 33 giga al giorno che anche se uno fa lavoro da casa smart working piuttosto che ho il figlio che guarda la serie tv, il padre che la serie si guarda le partite, l'altro figlio che gioca online insomma 33 giga al giorno sono molto molto sufficienti quindi secondo me. Io ho fatto un calcolo che giocando online, caricando video sul canale youtube, guardando serie tv quindi ogni giorno alla sera sono arrivato a consumare in un mese all'incirca 600 mega quindi voglio dire come connessione per le mie esigenze va più che bene. Ovvio che la cosa ideale sarebbe quella di appunto avere una copertura 5g piena nel senso come nel mio caso che ho la bts vodafone col 5g e quindi la velocità ovviamente è alta. Nel caso non si avesse copertura 5g comunque anche con il 4g 4g plus le velocità magari non sono sopra i 300 però 150 180 200 ci si arriva senza problemi. Quindi questa è la mia diciamo esperienza e quindi ad oggi sono soddisfatto. Ciao a tutti e al prossimo video.